Salve, sono Marco e faccio parte del team 1 della Primanci. Il lavoro su Edmondo sta... abbiamo già le idee chiare, ma per motivi non riuscimmo ancora ad accedere. Abbiamo deciso di esplorare il busto giusto fortunato e di metterlo in una stanza, una piattaforma. Questa stanza deve essere il busto giusto fortunato al centro e questo stanza deve contenere anche le cartine, i manufatti, i tempi, le cartine e dei quadri. Le cartine del sud Italia e i tempi di giusto fortunato.